Vediamo anche un Paese in cui i beneficiari del reddito di cittadinanza non scappano dal mercato del lavoro. Infatti si è sensibilmente ridotto il numero dei beneficiari. A maggio i nuclei di percettori risultano essere quasi 935.000, ad aprile erano stati 1.160.000 e a maggio di un anno fa erano 1.242.000. Non si tratta quindi, come si suole raccontare, di una misura fuori controllo. Per chi è occupabile stiamo rafforzando le politiche attive e grazie al programma Goll e al piano Nuove Competenze. Non credo esistano strade differenziate per i percettori del reddito, diverse da quelle previste in generale da tutti coloro che hanno distanze significative dal mercato del lavoro, né, lo voglio dire con molta franchezza, che esistano escamotage tecnici, app o piattaforme che risolveranno di per sé il tema dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in un Paese nel quale, come sappiamo, questa intermediazione si realizza in larga parte per via informale. Ogni cosa può dare un contributo ad andare nella giusta direzione. Quello che sappiamo però è che il recente rapporto attuale dell'Istat ha evidenziato come la misura del reddito di cittadinanza abbia evitato ad un milione di persone di essere risucchiata nel vortice della povertà assoluta. Ricordo che nel complesso i beneficiari di questo strumento costituiscono una platea con scarse esperienze lavorative pregresse, spesso saltuari e anche a causa di livelli di istruzione mediamente molto bassi. È impressionante come la mappa della percezione del reddito di cittadinanza sia sovrapponibile a quella dell'evasione scolastica nella ideale ricostruzione delle ragioni.